Allora io direi di iniziare questo incontro tenendo conto che in questo momento alcuni presidenti, dirigenti stanno facendo le interviste e quindi adesso si stanno liberando, arriveranno, però siccome i tempi li abbiamo un po' stretti sia per la presenza dell'assessore regionale ai lavori pubblici che poi a un altro impegno, sia per alcuni parlamentari collegati vorremmo iniziare comunque in modo che entriamo nel merito delle questioni, intanto ringrazio della partecipazione l'assessore Baldelli, i presidenti di Confartigianato Costruzioni e CNA Costruzioni, Enrico Mancini che adesso arriva qui di fuori, Marco Rossi della CNA e poi i presidenti degli impiantisti di Confartigianato Filippo Luna e della CNA Claudio Cardinale che prego accomodarsi appena arriva qui. Noi abbiamo ritenuto molto importante come associazione di categoria affrontare questo tema delle SOA e soprattutto della cessione dei crediti fiscali per i bonus edilizi perché sta diventando un problema diciamo così non solo esplosivo ma è una questione di sopravvivenza delle imprese da una parte e di danni incredibili ai cittadini, ai proprietari degli immobili che sono soggetti a questi interventi e quindi con delle difficoltà devastanti per tutti, dai privati alle imprese. E su questa azione ci siamo mossi da tanto tempo, stiamo facendo un ottimo lavoro come associazione di categoria delle piccole imprese che abbiamo attenzionato queste questioni a livello nazionale, ci siamo mossi per esempio non solo nei confronti del governo del Parlamento presentando emendamenti unitari per cercare di sbloccare la situazione ma anche nei confronti del sistema bancario. Lo abbiamo fatto a livello nazionale, abbiamo incontrato l'ABI, lo stiamo facendo anche a livello regionale quando le associazioni insieme o anche singolarmente incontrano gli istituti di credito perché è un tema come dicevo prima veramente importante e su questo visto che nonostante tutte le iniziative che abbiamo fatto, le difficoltà non solo permangono ma crescono stiamo registrando situazioni incredibili di imprese che erano in ottima salute e che bantano crediti dallo Stato che rischiano di fallire. Questa è una situazione assolutamente inaccettabile e per questo motivo nonostante il lavoro che viene portato avanti a livello nazionale anche nelle Marche abbiamo voluto attivarci per sollecitare il Parlamento, per sollecitare la Regione perché anche la Regione anche la Regione perché la Regione come forza politica, come istituzione che partecipa al tavolo regioni Stato può incidere, deve incidere e quindi deve sostenere le nostre tesi e quindi muoversi in maniera decisa insomma su questo tema. Io direi a questo punto non voglio togliere spazio ai Presidenti perché li abbiamo tutti molto ben preparati, li abbiamo sentiti anche poco fa che stava vicino alle interviste quindi passerei subito la parola al Presidente Ricco Mancini della Confartigianato Edili e poi dopo sentiamo il Presidente Marco Rossi e poi tutti gli altri tenendo conto che a un certo punto vorrei far collegare anche i parlamentari in collegamento quindi diamoci un tempo, insomma 5-7 minuti per uno in modo tale che tutti poi rappresentiamo le situazioni sulle quali ci stiamo dibattendo. Grazie Gilberto, grazie e buongiorno a tutti. La situazione è veramente paradossale, è sotto gli occhi di tutti ma forse non si è capito l'entità del problema. Le imprese hanno centinaia di lavori aperti e tutti voi vedete quanti cantieri, quante impalcature ci sono, quante gru sono montate. E' una situazione che non succedeva da anni. Il problema però a questo punto che i giochi ci sono e siamo in corsa non possiamo cambiare le regole, non possiamo avere queste problematiche. Al nostro motore si era data benzina e quindi noi ci siamo lanciati in questa corsa e ci abbiamo creduto. Però durante la corsa non si possono cambiare le regole. Il governo non può dire ok, siete lanciati, togliamo i freni, siete lanciati, togliamo una ruota. No, non è questo il sistema per andare avanti. Non possiamo permetterci la curva e dietro l'angolo e molte imprese rischiano di schiantarsi su questa curva. Come diceva prima giustamente Gilberto, i crediti sono stati maturati e sono crediti onesti, sono crediti sudati, sono crediti controllati da direttori lavori, da termotecnici, da asseveratori, da istituti terzi che controllano questi crediti. Quindi sono crediti reali, è lavoro vero e le imprese non hanno più soldi per pagare i loro fornitori. Hanno i crediti, ok, cosa ci facciamo con questi crediti? Bisogna assolutamente metterli a terra questi crediti, dar la possibilità alle imprese di andare avanti. Non è possibile continuare così, rischiamo un default. Ricordiamoci, il settore di ILE ha avuto gran parte dei meriti nel 2021 su un 6% di PIL. 6% di PIL che non succedeva anche questo da anni. Quindi del buono c'è, del buono è stato fatto, però a questo punto chiediamo che la strada che abbiamo intrapresa sia possibile portarla alla fine. Perché poi ci rimettiamo tutti, ci rimette il sistema Italia, ci rimettono le famiglie. Non è possibile questo. Quindi chiediamo che le nostre proposte siano ascoltate. Grazie. Grazie Presidente e grazie Enrico. Ho saluto ovviamente, li conoscete ma mi sembra doveroso, il segretario regionale della CNA e i funzionari della CNA, anche i dirigenti dei settori edili e impianti, il Presidente regionale di Confartigianato e gli altri colleghi funzionari del sistema edili e impianti della Confartigianato, compresi i dirigenti. Per il subito la parola al collega della CNA. Buongiorno a tutti. Anche io sono qua per sottolineare il problema che esiste e che è stato sottostimato. Noi abbiamo avuto un rilancio dell'economia, come già stato detto, grazie a questo 110. E aggiungo che questo rilancio dell'economia è stato talmente capillare e democratico che ha investito tutto il territorio italiano. Sfido a trovare un comune dove non ci sia un cantiere del 110. Dove praticamente una famiglia non abbia fatto un lavoro, dove una banca non abbia fatto una cessione del credito, dove una rivendita edile non abbia venduto materiali. Ora, pensate voi se questa cosa ci ritorna dietro con un effetto boomerang. Penso che gli effetti siano devastanti dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Se non risolviamo più presto il problema dell'accessione dei crediti. Altrimenti ci troveremo anche a trovare a vivere persone nei cantieri, con pareti abbattute, ponteggi e gru in cima. E penso che non sia un bello scenario da prospettare. E quindi non è una situazione che coinvolge solo le imprese, coinvolge anche i cittadini. E quindi la cosa è molto importante. E questa, a differenza della crisi del 2008, che è partita dalla Lehman Brothers, questa è una crisi che parte dal basso e quindi è per questo ha un effetto d'urto veramente devastante. E quindi chiediamo alla politica di intervenire al più presto, più rapidamente possibile. Perché se no, fra poco ci troveremo con le imprese che oltre ad avere i cassetti pieni di crediti fiscali, conti correnti vuoti, addirittura indebitati, fra un po' non si troverà, e anche per sostenere questo volume veramente importante di fatturato, non riusciranno più a pagare stipendi, contributi, fornitori. E penso che gli effetti saranno veramente, come ho già detto, molto molto pericolosi. Grazie. Grazie Rossi, molto concreto, efficace e breve. Ringrazio anche per la brevità. Io volevo salutare gli onorevoli presenti in sala, che ci hanno dedicato la loro attenzione e il loro tempo, che per noi sono presenze molto importanti, dalla onorevole Albano Lucia, Luca Paolini, Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici, Tullio Patassini, e poi i parlamentari collegati Patrizia Terzoni e Alessia Morani. E approfitterei della presentazione della Morani, del saluto alla Morani, per dargli la parola, perché so che poi ha un altro appuntamento, quindi la ringrazio per questo spazio che ci ha riservato, nonostante la mattinata. Prego, onorevole Morani. Sì, grazie, grazie a Confartigianato e a CNA per aver organizzato questo incontro importante, perché stiamo discutendo proprio in queste ore di un emendamento al decreto aiuti, che serva proprio per sbloccare questa situazione, di cui siamo consapevoli, che è una situazione che sta mettendo in fortissima difficoltà sia le imprese che le famiglie italiane, in un momento in cui ovviamente di questo non c'è assolutamente bisogno, poiché come tutti sappiamo abbiamo anche altri problemi, da il prezzo delle energie fino a quello dei carburanti. Per cui in rappresentanza insomma del Partito Democratico credo di poter dire con molta tranquillità che l'emendamento che abbiamo presentato come partiti di maggioranza, ce ne sono un paio di questi emendamenti, ma che sostanzialmente hanno tutti quanti il medesimo contenuto, sono per noi una priorità. Questo emendamento prova a sbloccare i crediti che in questo momento, come i due presidenti di CNA e Confartigianato hanno ricordato, sono completamente bloccati. Ed è un emendamento che prova diciamo ad intervenire a 360 gradi, su cui stiamo discutendo con il Governo. Ad onore del vero vi dico che ancora le posizioni tra quelle dei partiti che hanno proposto questo emendamento del Governo sono ancora lontane, devo essere sincera con voi. Però ho sentito i presidenti delle commissioni interessate che si stanno battendo affinché, e anche tutti i capi gruppo insomma, si stanno battendo affinché le ragioni di questo emendamento possano essere poi anche le ragioni del Governo per l'approvazione dell'emendamento. Dicevo, è un emendamento che ha diversi obiettivi. Il primo è quello di prolungare i bonus fiscali oltre l'anno corrente, quindi oltre l'anno 2022, di consentire l'eccessione dei crediti non solamente agli istituti bancari, ma anche alle cosiddette partite IVA, cioè coloro che hanno comunque un fatturato di 50.000 euro o oltre i 50.000 euro, consentire la trasformazione dei crediti maturati in BTP decennali, prolungare i lavori per le uni familiari, ma questo diciamo è uno sforzo minimo dalla fine di settembre alla fine di ottobre del 2022, e il tentativo è quello di prolungare invece per quello che riguarda le case popolari la possibilità di usufruire del bonus 110 fino al 2025. Come sapete si parla di un blocco di crediti pari a 5 miliardi, che sono sostanzialmente i crediti che dovrebbero essere ceduti a poste italiane e a cui corrisponde un impegno economico e finanziario del governo importante. C'è anche da ricordare che c'è un primo tentativo di andare incontro anche all'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare per i cantieri degli enti pubblici, sono stati stanziati i primi 7 miliardi e mezzo che sappiamo essere insufficienti rispetto a quelli che sono gli aumenti dei prezzi, che però è un primo tentativo per andare incontro a quell'aumento sconsiderato dei prezzi che ha diverse ragioni per quello che riguarda le materie prime e quindi per quello che riguarda gli appalti pubblici. Non vado oltre perché comunque ci sono tanti altri colleghi di maggioranza che possono poi magari approfondire quelli che sono i contenuti che io ho dato con dei flash e su cui però stiamo lavorando con grande convinzione e con grande consapevolezza che in questo momento il nostro obiettivo principale deve essere quello appunto di riuscire a sbloccare questa situazione che come i Presidenti hanno ricordato rischia di mandare in fallimento tante aziende e di mettere in crisi tante famiglie. Grazie onorevole del suo contributo e anche delle informazioni che ci ha fornito. Io darei subito la parola, proseguendo, agli altri due Presidenti degli Impianti Filippo se puoi, Filippo Luna, Confartigionato Impianti. Buongiorno, grazie intanto dell'opportunità e grazie agli ospiti per essere qui ad ascoltare le nostre istanze. Allora io vorrei fare un minimo di contestualizzazione per rendere conto dell'entità del problema. Allora io sappiamo tutti che tutto è nato dal decreto rilancio. Il decreto rilancio ha sdoganato il principio per cui si potevano fare lavori di efficientamento energetico, non solo il 110, perché il 110 è un tema molto importante, ma non è l'unico. Il tema è il fatto di poter allenare i crediti di imposta che derivano ai interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico nelle varie aliquote, 50, 65, 110, anche super sisma bonus. Il tema è molto più grande del super eco bonus. Dal decreto rilancio in poi è stato sdoganato il principio per cui il credito di imposta poteva essere ceduto il limitato numero di volte, per cui è passato il concetto che o lavoravi con lo sconto in fattura o non potevi più lavorare, perché è una condizione così forte di vantaggio sul mercato o ha scatenato questo tipo di dinamica. Il credito di imposta era cedibile n volte, poi a novembre, enfatizzo, ma è successo così, di notte è uscito un decreto antifrode che ha bloccato il mercato dalla cessione dei crediti di imposta. Questo è un atto di terrorismo, becero, uso toni forti, perché da novembre in poi i crediti di imposta non sono stati più quelli di una volta, non hanno girato più in quella maniera, hanno girato molto di meno o si sono totalmente bloccati, noi li abbiamo comprati a un valore nominale e oggi sono spazzatura. Il tema è che questo tipo di principio non è nemmeno paritario tra le varie entità delle aziende, perché le big utilities non hanno problema di tenere i crediti di imposta in dieci anni, perché hanno debiti di imposta e liquidità pressoché sconfinata rispetto di ordini di grandezza superiori a quelli che hanno in pancia. Il problema è solo il nostro, dei piccoli, uno, due, tre, noi rappresentiamo associazioni, infatti io rappresento gli installatori mediamente tre occupati per ogni azienda. che hanno iniziato a prendere i crediti di imposta e non li possono cedere più, è da novembre che urliamo. Il tema della soluzione non è un binomio, un binomio perfetto, soluzione in tempi certi, perché da novembre a giugno non si sopravvive. I crediti di imposta non pagano le ricevute bancarie, non pagano gli stipendi, non pagano le bollette, non pagano i camini. Il momento è drammatico. Io non voglio enfatizzare troppo il problema, ci saranno aziende che falliranno, ci saranno imprenditori che si suicideranno. Questo è il tema. Non so se sono stato troppo pesante, ma questo è quello che sta succedendo. Noi dobbiamo sbloccare il credito di imposta in pace alle imprese prima di subito, al valore nominale a cui l'abbiamo acquistato. Non spostarla l'anno prossimo, non ragionare, vedremo quello che faremo, poi tranquilli non li perderete. Chi ci copre questa liquidità? Gli americani dicono cash is king. Qui in Ancona dimo, dimo in Ancona, se i soldi c'è, i soldi non sepia. Ok? Senza soldi, noi, senza cassa, senza liquidità, noi muriamo. E tutto va totale a pannaggio delle big utilities che potranno poi prendersi tutto il mercato. E questo è chiaro che succederà. E attenzione, i crediti di imposta sono il 50%, sono il 65%, il cambio della caldaia, il climatizzatore, l'impianto fotovoltaico. Su questo schema di incentivazione si poggia la transizione energetica tanto decantata al PNR di cui tutti quanti ci riempiamo tanto la bocca. Se facciamo morire le imprese che questo efficientamento lo mettono a terra, la transizione energetica non sarà possibile. Grazie di attenzione. Grazie Filippo. Diamo la parola ora al Presidente di CNA Impianti, Claudio Cardinale. Buongiorno a tutti e grazie. E' voluto per l'efficienza energetica degli edifici e per la loro sicurezza. quindi è partito da quello. Gli artigiani si sono adeguati a questa cosa in maniera anche difficoltosa, sia per il tipo di prati che la burocrazia che c'è dietro, sia per le varie modalità che sono cambiate nel periodo e poi hanno avuto la difficoltà sia di reperire i materiali e la mano d'opera. Si sono organizzati, sono riusciti ad andare avanti, hanno dato fiducia a questa iniziativa, dopodiché ora si trovano in questa condizione. Per una piccola impresa artigiana a volte i credi superano anche il 50% del fatturato, quindi veramente sono molte imprese, stimate 33 mila in Italia, che sono a rischio fallimento. Questo tipo di provvedimento è molto criticato, va valutato, va migliorato, non lo so, però bisogna riflettere bene perché comunque nell'anno scorso ha inciso per l'1,2% del PIB nazionale, quindi non è una cosa da prendere in maniera superficiale. Attualmente il discorso è questo, le imprese stanno ferme, non stanno pagando i fornitori e parecchino neanche gli stipendi delle persone. Al di là di discutere come e se portarlo avanti, questa è una partita aperta, è una partita che va chiusa per chi sta giocando con la vita delle imprese, delle persone e delle famiglie che ci stanno dietro. Quindi va vista, chiusa, in modo che le persone e le imprese possano continuare ad andare avanti, altrimenti avremo oltre un problema economico anche un problema sociale. Grazie Claudio, molto efficace e concreto e anche nei tempi. Io passerei la parola adesso ai parlamentari o diamo la parola a Patrizia, così abbiamo accolto un'altra signora ma anche l'onorevole in collegamento. Patrizia, procedi, sempre con i tempi che ci siamo dati prima per tutti, se è possibile. Grazie. Sì, grazie, scusate se non sono lì ma sono in isolamento da Covid quindi troppo per forze maggiori non posso essere con voi. Per quanto riguarda la questione che avete sollevato, sia la questione crediti che la questione SOA, ieri ho partecipato alla riunione di maggioranza sui emendamenti che sono stati presentati. Per quanto riguarda la cessione di crediti, c'è stato un netto o no da parte del governo, per quanto riguarda l'acquisto di BTP da parte delle banche per i crediti incagliati. Quindi quella parte lì non potrà andare avanti ma da una parte ce lo aspettavamo perché crea diversi problemi alle casse del fisco, comunque ci sono problemi di ordine finanziario per il bilancio dello Stato. Mentre invece per la parte di apertura della quarta cessione alle piccole e medie imprese, il governo sta prendendo molto in considerazione questa opportunità. Le prospettive che stanno studiando le stanno studiando con le banche perché logicamente stanno chiedendo al mondo bancario che una volta effettuata questa modifica loro riaprano subito alla compravendita di questi crediti. perché purtroppo se facciamo delle normative e poi loro non le applicano noi vogliamo la certezza che poi loro vadano avanti nel mercato dei crediti. Le opzioni che sono, sono quelle sul tavolo e cioè l'apertura a tutte le piccole e medie imprese, l'apertura anche alle partite IVA con un fatturato sopra 50.000 euro ma in realtà un'altra terza prospettiva che ci ha dato il governo è quella di aprire la cessione dei crediti a tutti i non consumatori nel senso di fare l'elenco di chi può acquistare il credito, di chi può comprare il credito dalla banca in realtà di aprire a tutti tranne che i privati praticamente quindi i non consumatori esattamente. Quindi questa è una cosa che sta in ballo e che dovrebbe essere concursa concursa la prossima settimana perché tanto poi inizieranno i voti in commissione quindi per la parte cessione diciamo che è questa la prospettiva che si sta portando avanti. Per quanto invece riguarda la SOA ieri il governo è stato molto chiaro al Senato è una questione che il governo non ha interessato neanche quando è stata approvata al Senato ed è stata una scelta di partiti politici al presente al Senato di introdurre la SOA. Alla Camera come sapete in realtà quasi tutti i partiti politici a parte forse credo il PD hanno presentato l'abolizione della SOA e stiamo andando avanti su questa strada il governo si è rimesso completamente al Parlamento quindi è una decisione prettamente parlamentare se andare avanti o non andare avanti con la SOA e diciamo le prospettive di accordi di maggioranza si avranno la prossima settimana perché lunedì ci sarà una nuova riunione di maggioranza proprio sulla questione SOA e non vi so dire ancora gli accordi se abrogarla del tutto o aumentare la soglia a un milione o un milione e mezzo e questo lo potremo capire attraverso queste mediazioni che stiamo facendo a livello di maggioranza la prossima settimana. Personalmente so molto bene i problemi della SOA anche perché forse una cosa che non è stata neanche percepita bene anche a livello politico è che l'applicazione della SOA in questo momento da gennaio ci sono sei mesi per poter avere questa certificazione che cosa significa? Che se in questi sei mesi un'azienda che prende un lavoro poi non riesce a prendere la SOA il cittadino perde tutto il 110 o comunque tutti i bonus edilizi a cui fa richiesta quindi diciamo che è un problema non di poco conto perché poi va a finire non solo per per l'impresa che comunque perde quel lavoro ma il cittadino che proprio perde l'incentivo fiscale anche perché vorrei sottolineare che la SOA è stata introdotta non ho ben capito sinceramente la trattazione che è stata fatta al Senato magari poi i senatori ce lo spiegheranno meglio visto che ci sono alcuni presenti perché è estesa anche bonus edilizi normali la SOA certificazione per accedere agli apparti pubblici è stata estesa anche al privato la questione è ok il 110 sono tutti soldi pubblici va bene ma allora anche perché ha il bonus 50% dove il cittadino può scegliere anche la propria azienda fiduciaria così invece dovrà scegliere per forza nelle grandi aziende che hanno la SOA è un problema questo con cui mi sono confrontata direttamente anche con il presidente sia della CNA che di partecipato Granelli e stiamo cercando appunto di portare avanti questa modifica della SOA penso che ci riusciremo logicamente il vostro contributo esterno non sarà sottovalutato quindi potete aiutarci a tassarci come sapete fare solo voi per cercare appunto tra lunedì e martedì di trovare una soluzione una mediazione parlamentare anche sulla SOA credo che questi siano i due punti principali il resto la proroga delle unifamiliari la proroga delle qui in caso mi riferisco soprattutto alla regione Marche perché sta facendo un lavoro sulla ristrutturazione delle case popolari si sta cercando di fare la proroga anche sulle case popolari molto probabilmente quella non a questo giro ma in legge di bilancio perché attualmente sono molto onerose fare queste proroghe quindi andrà a finire in legge di bilancio per il resto rimango qui in attesa se ci sono in teori domani e magari posso dare qualche risposta grazie grazie onorevole grazie anche per aver introdotto il secondo argomento quello della SOA che ovviamente è importante anche questo anche se è stato trattato poco dai nostri presidenti perché questo dimostra anche la gravità della situazione sulla cessione dei crediti sui bonus però il problema della SOA per le piccole imprese è un problema anche di sopravvivenza perché significa introdurre ulteriori costi rigidità insomma ecco carte che poi non servono allo scopo diciamo ecco per il quale era stato così introdotto e quindi è importante anche questo diciamo così questa sottolineatura io adesso dare la parola ai parlamentari presenti partiamo con il presidente della commissione Mauro Terzoni cioè Mauro scusa Coltorti grazie per avermi invitato sono venuto qui perché questi temi sono estremamente sentiti dal Movimento 5 Stelle i bonus sono partiti anche grazie all'estrema spinta che ha dato il Movimento 5 Stelle a questi provvedimenti e noi credo che il balzo del PIL che abbiamo avuto lo scorso anno sia sicuramente associato a questa ripresa delle attività edilizia di tutti gli impianti e tutta la filiera che si tira dietro l'edilizia abbiamo lottato fin dall'inizio perché questi provvedimenti fossero spalmati su più anni e non in un tempo limitato perché era evidente che il tempo limitato giocava un ruolo estremamente negativo sui provvedimenti perché poi i crediti crescevano e devo dire che c'è stata anche una pessima comunicazione su questi provvedimenti perché poi al super bonus 110% sono state associate delle frodi che invece non venivano dal 110% perché il 110% le frodi sono il 3% del totale la maggior parte delle frodi derivano da altri bonus in particolare il bonus facciate che ha avuto vari problemi e ovviamente le frodi sono portate dietro dei provvedimenti per giungere a una valutazione e a un blocco delle frodi e purtroppo i ministri non sono stati a guardare nel dettaglio hanno tagliato a raso ed è una cosa che noi abbiamo subito criticato perché poi non è che non abbiamo più bisogno di questo slancio per l'industria del paese noi ne abbiamo bisogno come il pane in questo momento in cui l'economia rallenta il paese intero rallenta le imprese e quindi anche i lavoratori sono in crisi c'è una crisi socio-economica galoppante che sta arrivando c'è un'inflazione che conoscete tutti siamo oltre il 7% quindi è veramente critica noi talloniamo i ministri avete sentito sia la Morani che la Tersoni che sono nelle commissioni specifiche e seguono questo tema perché talloniamo i ministri Giovannini con cui io dialogo continuamente non ha grandi contrarietà però Giovannini va dietro a quello che è il principale attore di questa questione cioè Franco il ministro dello sviluppo economico quello che ha la borsa e Franco sta di fianco a Draghi sono loro che hanno il polso della situazione sono loro che in qualche modo rallentano come diceva la Morani uno dei provvedimenti è spalmare la situazione su più anni perché è evidente che spalmando su più anni quello che è la crisi ci sono delle possibilità un adesso un secondo facciamo un internezzo grazie senatore Coltorti adesso facciamo parlare l'assessore perché come vi dicevo prima che dovevamo iniziare perché poi avevamo dei tempi stretti poi torniamo di là quindi sentiamo la regione Marche grazie di nuovo grazie a voi grazie alle nostre associazioni di categorie di categoria grazie ai parlamentari che in maniera trasversale sono presenti e sensibili a questo problema chiedo scusa agli altri parlamentari che non sono riuscito e non riuscirò ad ascoltare perché purtroppo un impegno mi porta altrove siamo andati un po' più lunghi ascoltavo attentamente le parole delle categorie e è chiaro che sono degli appelli accorati che vengono dal mondo dell'impresa che vengono da nostre piccole e medie imprese che tutti sappiamo rappresentano una spina dorsale dell'economia italiana di quel PIL che prima il presidente della commissione lavori pubblici diceva è trenato molto dal mondo dell'edilizia e allora una norma nazionata lo dicevo prima nelle interviste per sostenere il mondo dell'edilizia per far ripartire le nostre imprese rischia così come congegnata di ucciderle la politica non può permettere che secondo gli ultimi dati circa 33.000 imprese italiane rischiano di chiudere i battenti non so a chi stiamo facendo un favore ma non stiamo facendo un favore all'economia italiana alle imprese italiane alle famiglie italiane mi permettono gli parlamentari di maggioranza di dire che modificare una norma sull'accesso a questo credito sette volte in due anni crea tanti tante e tale incertezze che in un momento così difficile congiunturale da un punto di vista economico finanziario ma anche geopolitico fa venire meno le speranze di famiglie e imprese della ripresa del sistema italia proprio il governo comunicava nei giorni scorsi che sono fermi 5,4 miliardi di crediti che ancora sono fermi su una piattaforma dell'agenzia delle entrate e tra l'altro mi rifaccio a chi mi ha preceduto 3 miliardi e 7 sono dovuti al super bonus da 110 1 miliardo e 7 e gli altri bonus edilizi allora per non spegnere questa speranza per non uccidere quel mondo che a noi interessa particolarmente che potrebbe trenare la ripresa della nostra nazione e anche della nostra regione che vive tra l'altro anche il problema del sisma con i problemi dei preziari l'aumento dei prezzi la difficoltà di ritrovare imprese la regione Marche suggerisce una riforma organica dei bonus edilizi lo dicevamo poc'anzi non possiamo ridurre bonus edilizi a una corsa all'ultima spiaggia e ridurre bonus edilizi tra l'altro di una portata così importante il 110% ma anche gli altri livelli di bonus ad una corsa da poter vincere solo se si arriva in un biennio ad ottenere l'accesso al credito questo ha creato come tutti abbiamo visto una impennata dei costi una bolla speculativa un non prendere in considerazione da parte del governo nazionale che per cantierare un'opera prima c'è la progettazione poi c'è la ricerca della copertura economica poi c'è la realizzazione del lavoro e in ultima analisi lo vedremo nei prossimi mesi l'aumento dei conflitti tra imprese tra imprese e famiglie tra imprese e istituti di credito che avevano visto accettate magari dei crediti e che oggi con il blocco rischiano il fallimento allora non voglio utilizzare gli altri toni perché spero che si allontana le ipotesi di tante tragedie che abbiamo sentito anche nel passato dal 2008 ad oggi ma dobbiamo subito innanzitutto rimpingare il fondo per i crediti e dare garanzie che questi crediti vengano accettati nell'immediato per le pratiche che sono in essere che sono in itinere in secondo luogo riformare complessivamente il settore dei bonus allungando i tempi lo diceva prima il presidente della commissione dei lavori pubblici non mi stupirei nemmeno se agissimo sul bonus non vi è la necessità di fissarsi su un'aliquota potremo anche avere aliquote differenti ma che hanno una estensione molto più lunga e duratura per far partire un settore per far sentire certe le imprese di un credito che acquisiranno ma anche dar fiducia alle nostre famiglie e soprattutto così agiremo anche su quella impennata dei costi a volte non legittimata dalle situazioni reali queste sono le soluzioni che come regione Marche proponiamo che potrebbero essere un elemento anche di mediazione fra partiti di maggioranza tra i partiti del nostro Parlamento e il governo nazionale per poi agire magari anche sulla diluzione della detrazione IRPEF dare certezza per chi può la detrazione IRPEF magari da 5 renderla certa a 10 anni per tutti perché questo farebbe venire meno la pressione sugli istituti di credito perché qualcuno autonomamente potrebbe con la detrazione IRPEF sostenere quell'investimento che stiamo facendo sul nostro patrimonio edilizio io vi credo scusa ancora ma le associazioni di categoria in questa battaglia come i parlamentari qui presenti sanno che hanno la regione Marche al loro fianco siamo una piccola regione ma siamo molto determinati nel difendere il nostro tessuto economico e sociale e la nostra impresa grazie grazie assessore grazie per le parole grazie per l'impegno ovviamente noi vigileremo su questa su queste iniziative su questi sostegni perché veramente abbiamo bisogno di risposte concrete vale per tutti ovviamente a partire dal Parlamento che da quello che abbiamo capito insomma ecco il Parlamento qualche volta diciamo così non dico compina dei pasticci però non so crea parecchi problemi perché questa diciamo tutti questi queste innovazioni introdotte poi hanno creato il caos che stiamo vivendo quindi è importante insomma ecco rimettere ordine dare certezze soprattutto stabilizzare i provvedimenti perché i cittadini e le aziende hanno bisogno di sapere che cosa c'è in prospettiva insomma perché poi sulla base di questo ognuno fa le proprie scelte andrei avanti con gli interventi passando la parola all'onorevole Albano Lucia grazie mille grazie saluto l'assessore Baldelli buon lavoro io ringrazio tutti per l'invito ringrazio la CNA Confartigianato per questa possibilità questa opportunità e ho ascoltato con attenzione come da tempo la situazione la sto verificando monitorando e osservando è interessante il titolo si rischia di fallire il titolo incontro di oggi le aziende rischiano di saltare e di fallire per troppi crediti è un paradosso stavamo parlando prima dell'incremento del PIL che c'è stato lo scorso anno ma chi lavora in azienda chi conosce l'azienda chi lavora tutti i giorni nell'economia reale sa benissimo che da una parte c'è il fatturato ma dall'altra parte al fatturato deve corrispondere anche un flusso finanziario se non c'è un flusso finanziario l'azienda non riesce è un'ovvietà ma l'azienda non riesce lo diceva prima lo dicevano prima i vari presidenti nei vari interventi ebbene io vorrei solo dire che come osservato e come continuo ad osservare è un tema che in questo momento è tutto in un dibattito di maggioranza io come sapete sono in questo caso all'opposizione ma questo non significa che non ci sia una grande attenzione ed una collaborazione costante su un tema così importante e così decisivo noi già l'anno scorso nel momento in cui dopo la prima partenza del super bonus c'è stato il decreto antifrodi avevamo fatto delle proposte molto chiare che erano delle proposte che andavano nella in qualche modo semplificazione sistematizzazione e anche abbassamento delle percentuali del super bonus e dei bonus in generale in modo tale che ci fosse una razionalizzazione ed un allungamento dei tempi che come tutti hanno detto oggi avrebbe creato e ha creato un mercato drogato nei prezzi una bolla speculativa e tutto quello che abbiamo visto e questo per quanto riguarda un po' d'altro canto nella legge delega fiscale che abbiamo recentemente discusso in commissione finanze alla camera nella legge delega fiscale uno dei criteri fondamentali è la semplificazione ebbene da una parte c'è la semplificazione come criterio ma dall'altra parte c'è un continuo complicare attraverso una una legislazione legiferare d'urgenza perché è vero presidente che c'è il Parlamento che sicuramente a volte lavora ma non viene messo nelle condizioni adeguate per poter lavorare perché quello che noi vediamo è una decretazione d'urgenza continua che arriva in Parlamento e non consente un lavoro adeguato e approfondito né alle commissioni né alla ola parlamentare e questo comporta poi tutto ciò che di cui stiamo parlando perché se voi vedete sono tutti decreti quelli su cui ci siamo impantanati recentemente e sulla cessione dei crediti una nostra proposta era anche quella della questione del BTP è chiaro che stamattina c'era questo come diceva la collega Terzoni c'era sicuramente sembra naufragata questa ipotesi ma la cessione deve ripartire queste sono le proposte del governo noi attendiamo che ci sia una chiarezza su questo e siamo qui ovviamente a lavorare a sostenere questa cosa chiediamo però un'estrema velocità perché lo chiediamo assieme alle categorie assieme a tutte le imprese che in questo momento sono veramente in difficoltà ecco direi che sul tema dell'ESOA è un tema molto delicato anche questo ha un effetto che probabilmente non era stato verificato non era stato previsto sin dall'inizio anche qui vediamo di aspettare come la maggioranza ci sono delle proposte noi in commissione attraverso i nostri emendamenti attraverso il nostro lavoro collaboreremo per un lavoro insomma adeguato per una ripartenza è chiaro che la ripartenza è necessaria grazie 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 a lei onorevole adesso passiamo la parola all'onorevole Tullio Patassini così lo coinvolgiamo perché sennò divaga scusa grazie mi sposto perdonatemi almeno vedo tutti perché sono qui poi ho preso qualche appunto e vengo proprio ieri sera da una riunione lunghissima di maggioranza che abbiamo fatto sul 110 per tento in cui c'era Patrizia collegata collegati streaming perché il tema c'è cioè questo vorrei lanciarlo in maniera chiara e forte perché il tema c'è il tema va risolto subito vi sono le visioni lungo periodo che potrebbero prevedere la rivisitazione dei bonus la modifica però il tema oggi è un tema e il tema essenziale rispetto a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto proprio ieri sera con il governo è la gestione ai creiti poi lo spostamento di un mese delle unifamiliari l'inserire l'IVA o non inserire l'IVA su alcune tipologie di attività le IACP è un problema secondario abbiamo tempo poco ma abbiamo un po' di tempo per risolverlo è vero abbiamo lavorato con la decretazione in urgenza perché purtroppo dopo il covid è arrivata la crisi dell'energia e dopo la crisi dell'energia è arrivata la guerra quindi abbiamo fatto decreti in urgenza ma sono stati indispensabili per poter immettere nel sistema oltre 40 miliardi di euro che hanno in qualche modo aiutato il mondo e le imprese delle famiglie non sono stati risolutivi perché quando l'energia aumenta 5 volte 40 miliardi voi pensate che 40 miliardi sono due finanziarie tanto per dare un parametro e quindi la decretazione in urgenza ha comportato qualche errore il blocco e le eccezioni è stato un errore possiamo dircelo non dobbiamo nasconderci dietro falsi motivi ci sono stati 5 miliardi di frodi sì sono stati fatti su alcune tipologie di bonus sì ma sono 5 miliardi di frodi che pagheremo noi cioè noi collettività non la pagherà qualcuno qualche soggetto astratto la questione delle eccezioni è stata risolta in un mese poco più di un mese che per chi vive le fatiche della burocrazia è un tempo praticamente zero perché se vi ricordate il decreto successivo già nel testo del decreto c'era la possibilità di riportare le due a quattro cessioni che ripeto per chi sta a Roma poi io abbiamo contatti diretti sia con CNA che con col partigianato nazionale scusa con il quale già da fine maggio siamo entrati su questi temi perché abbiamo una serie di emendamenti che sono stati giustamente presentati dalle due rappresentanze di lavoratori e di imprese che vanno nella direzione che ci diciamo c'è anche la questione dei crediti prima del 29 aprile delle comunicazioni dei cittadini ma queste sono cose che conoscete benissimo quindi sulle quali non vorrei risolvere poi ecco dire all'assessore Valdelli ma mi dispiace che è andato via che abbiamo fatto sette modifiche sulle cessioni abbiamo fatto quello che serviva per cercare di salvare il salvabile di fronte a una situazione difficile poi è chiaro chi sta al governo si prende le sue responsabilità ma fa in modo di risolvere i problemi chi non sta al governo fa l'opposizione giustamente fa da giusto stimolo per l'opposizione ieri si parlava della soluzione che serve per sbloccare il plafond delle banche perché anche le banche hanno a dover gestire a oggi circa 40 miliardi più tutti quelli che giustamente ci auguriamo che arrivino e la soluzione che si sta individuando e che dovrebbe andare a buon fine quello che diceva la collega Tersone è quello di dire la gestione non è prevista solo verso le banche ma è prevista verso tutti meno che per i consumatori cioè posso cedere il credito a Terna Cdp Fingantieri Enel Pepa Trasporti che ne so io meno che i privati consumatori e dico al presidente Pepa perché mi sta di fronte non perché e quindi questo dovrebbe far ripartire quella possibilità di gestione che è indispensabile quindi è chiaro è il passaggio che serve poi allungare la possibilità di scontare i credito da parte dei privati cittadini ma questo è un po' più difficile perché lì c'è l'incapienza cioè molti cittadini non hanno la dichiarazione redditale per potersi scontare 10 mila euro all'anno soprattutto i pensionati soprattutto chi ha i condomini soprattutto chi deve fare i lavori più importanti e quindi su questo è un pochino più complicato l'attenzione ce l'abbiamo c'è stata tra l'altro parlo tra marchigiani quindi dobbiamo dire che noi nell'attività che abbiamo fatto tutti insieme siamo l'unica regione insieme alle altre quattro del cratere che abbiamo il 110 fino al 2025 per l'immobile sionati dal sisma e vi assicuro che essere in Parlamento in quelli che vedete qui oggi e quelli che sono collegati contro mille questa cosa non è automatica e non è neanche scontata poi Luca lo sa che è già la seconda legislatura e quindi quella è stata per noi una grande conquista poi lì purtroppo per chi lo sa c'è stato qualcuno che si è messo a fare un interpello all'agenzia delle entrate di Venezia che ha riconfuso le questioni ma altrimenti avremmo avuto un'autostrada per far sì che le nostre regioni erano le uniche che potevano avere il super bonus fino al 2025 altri ampliamenti nel breve periodo non ci sono ho esaurito il tempo quindi altri ampliamenti al periodo non ce ne sono quindi non pensiamo a dover pensare altre soluzioni chiaro il 110 è una buona misura sì perché l'edilizia non vive senza bonus e concludo con questo ragionamento come dicevate tutti l'edilizia non vive senza bonus non vive senza agenti fiscali probabilmente un 80% facile a tre anni rispetto a un 110% difficile un anno avrebbe leggermente migliorato la situazione perché non è quel 20% che mette il 20 il 15 il 10 che mette il cittadino che avrebbe messo in difficoltà ma avrebbe evitato tanti avventurieri dell'edilizia grazie grazie Tullio adesso sentiamo l'onorevole Paolini così abbiamo quasi finito il giro grazie grazie dell'invito io vi porto invece un punto di vista diverso io non insegno ai gatti ad arrampicarsi voi siete tutti imprenditori io invece mi occupo di giustizia e antimafia noi fin dal 2020 segnalammo anzi abbiamo un comitato il ventesimo comitato in antimafia che studia e voleva prevedere aveva previsto veramente quello che sarebbe successo a seguito del covid e poi successivamente della guerra quanto perché l'iniziativa sacrosanta quella dei super bonus e di varie agevolazioni perché è stata fatta è diventato un problema non credo terrorismo come ha detto il però il senso io capisco la disperazione di chi ha fatto affidamento verso lo Stato e si trova poi a dover a vedersi cambiate le regole sette volte questo è vero però ci sono anche 5,6 miliardi di truffe ci sono il 51% dei bonus facciate che sono risultati truffaldini 35% di ecobonus 3% di super bonus noi segnalammo subito in questo comitato che chiaramente noi nel comitato abbiamo consulenti comandanti uscico del ROS delle agenzie delle entrate tutta gente che ha il polso della situazione e soprattutto le procure distrittuali che ci dicono guardate questo diventa un business bestiale perché quando tu non riesci in nessun modo a distinguere l'imprenditore serio l'imprenditore che sta sulla piazza da vent'anni l'imprenditore che ha una competenza tecnica che ha una capacità fiscale reddituale operativa vera da quello che nasce sono nate 15-20 mila imprese dal nulla molto spesso collocate anche se formalmente a 26 ovunque ma riferibili a ben noti organizzazioni criminali ecco questo è il problema perché i crediti perché a un certo punto mi pare verso aprile o comunque adesso vi dico le dati il primo decreto è stato introdurre il codice identificativo univoco perché il governo ha reagito perché era una cifra mostruosa le banche poi giustamente esistenticono poi se i crediti inesistenti i lavori non sono esistenti e lo Stato non li pago li revoca giustamente la banca dice io non ti anticipo a te nella incertezza di quello che sa il mio ritorno però il vero io quello che dico da molto tempo e per fortuna sono a fine carriera politica posso anche permettere di dire cose magari impopolari però il problema è anche un pochino nell'associazione perché io vorrei chiedere a tutti voi che siete comunque esperti quante segnalazioni avete fatto nell'ambito delle vostre competenze nell'ambito del vostro settore di ditte un po' strane ditte che chiaramente facevano prezzi fuori mercato ditte che tutti perché uno del mestiere lo sa bene chi è chi lavora bene e chi no quante segnalazioni sono state fatte per cercare di calmerare o ridurre o comunque generare l'allarme verso questi soggetti che hanno usato il super bonus una cosa legittima e grandissimamente importante per le imprese per fare furti questo è il problema 5,2 miliardi qualcuno dice 4 il direttore dell'agenzia dell'entrata dice 4 e 2 ma comunque sono la più grossa truffa che è stata fatta in Italia negli ultimi pari in assoluto ora io chiedevo prima parlavo con uno di voi e chiedero anche lo incontro in privato occorre secondo me che le associazioni cominciano a prestare maggiore attenzione al problema legalità perché la legalità mentre all'inizio forse ma facciamo finta va tutto bene lasciamo perdere però poi si riverbera contro di voi contro gli onesti perché quando il sistema delle truffe diventa enorme lo Stato non può fare finta di non vedere perché banalmente si tratta di 5,5 miliardi rubati salvo altri perché poi quegli accertati sapete che sono sempre una percentuale del del totale aggiungo e concludo che a mio avviso una soluzione andrà trovata detto bene Tullio Patassini alla fine della giostra chi pagherà pagherà pantaloni per forza perché la tutela dell'affidamento andrà comunque in qualche modo soddisfatta ma è altrettanto vero che bisognerebbe che le associazioni categorie per prime il Parlamento che spesso credetemi non è per dire ma il Parlamento molto spesso questioni tecniche segue quello che arriva dagli uffici del governo questo è il problema di fondo qui è ora di intervenire pesantemente e lo ripeto pesantemente sulle dirigenze ministeriali sui burocrati che sono il vero cancro di questo paese che non rispondono mai la politica molto spesso viene accusata e si prende colpe che non ha perché ti arriva il burocrate il burocrate che attraverso mille canali spesso indimostrabili però ti mette davanti a provvedimenti di una natura complessa di una natura tecnica complessissima di cui tu non hai tu parlamentare ammesso che tu sia competente perché io se mi parlate di giustizia antimafia sono in grado di parlare con qualunque magistrato anche di livello magari è molto più raro di me ma comunque so di cosa si parla ma se mi parlate di produzione di altre cose giustamente sono un cittadino come gli altri che non si picca di voler essere esperto di tutto però vi garantisco che questo è uno dei problemi bisogna mettere mani alle burocrazie perché questi decreti guardate partono dai ministeri e io dentro di me sono anche convinto di non essere fatti apposta così perché poi alla fine si scarica un pochino e lo scarica barile no io faccio un decreto che c'ha mille noi subito ci siamo accorti che con delle regole così era palese che venivano fuori delle truffe subito l'abbiamo visto nel 2020 la DIA ci ha fatto una relazione e aggiungo e concludo che questo tipo di ma freghiamoci io penso al mio piccolo mondo ecco il tuo piccolo mondo che oggi non interessa a nessuno cioè interessa a te io a me che mi frega se nascono 20 imprese che non c'hanno un operaio che sono nate ieri che chissà che non hanno nessuna competenza a te che io penso al mio purtroppo quando arriva il crollo chi ci rimette siete più voi quelli per bene che hanno un know-how vero che hanno contribuito e contribuiscono alla ricchezza del paese perché quando si fa come dire quando è la notte tutte le vacche sono nere quindi bisognerebbe pretendere che anche rispondano i signori dirigenti ministeriali strappagati molto più dei politici che molto spesso con la loro opera ripeto non formalmente non non diciamo decisiva ma di fatto quella che permea e determina poi le scelte parlamentari dovrebbero cominciare a dire ma chi è stato che ha fatto questi provvedenti così cioè chi è che ha fornito noi lavoriamo su dati che ci vengono dal ministero se il ministero ci dice io sono antimafia questa roba la sa meglio Tullio Patassini e la Morani e la collega Terzoni però vi dico noi lavoriamo spesso su dati che ci arrivano dai ministeri e che se io ti dico che questa cosa fatta così va bene e invece poi i dati non corrispondono esattamente alla realtà dei fatti è chiaro che poi tu puoi essere indotto in errore in buona fede e quindi questa cosa andrà risolta perché è chiaro che un'aspettativa va le imprese vanno salvate specie in questo momento non c'è dubbio io per quello che potrò ma sono d'accordo con altri farò quello che posso per far sì che si arrivi a una soluzione perché però poi bisogna aprire una serie di serie accertamenti per ricostruire chi come e perché ha creato una situazione che è unica in tutta Europa grazie grazie onorevole io direi siamo nei tempi chiudiamo in un modo diverso da uno che fa le conclusioni darei la parola un minuto a tutti i presidenti in modo tale che si fa un'ulteriore riflessione e se c'è prego Otello scusate tranquillo assolutamente sì Otello Gregorini lo conoscete tutti intervengo per portare il sostegno della CNA insieme a Gilberto all'azione che fanno le nostre categorie ma l'intervento dell'onorevole o senatore non ricordo Paolini mi ha anche stimolato andiamo per gradi tre questioni di fondo che sul pezzo mi sembra che ci siamo come rappresentanti del Parlamento ci siamo un po' meno come governo allora la cosa fondamentale bisogna sbloccare i 5 miliardi e 4 3 7 1 7 quelle che sono subito l'iter chiude intorno al 12 di luglio se capisco bene dobbiamo trovare quella soluzione se non sono i BTP sono tutti soggetti benissimo però sblocchiamo seconda questione come trattiamo quello che è successo in questi mesi terza questione guardiamo la prospettiva affrontiamo le cose una per volta ma affrontiamole questo è l'elemento fondamentale quindi sblocco la fase transitoria la prospettiva e siamo assolutamente d'accordo che va rivista le ultime due questioni burocrazia ruolo delle associazioni noi non facciamo i giardarmi noi siamo attenti ma le nostre imprese non sono quelle che hanno inventato l'impresa nell'ultimo periodo per essere e non frequentano neanche le nostre associazioni per essere estremamente chiari le nostre imprese sono quelle che conosciamo da sempre fanno quel tipo di attività ci hanno creduto ma hanno creduto una legge dello Stato non è che hanno inventato o hanno interpretato qualcosa di diverso no c'è questa e noi ci siamo andati anche noi all'inizio nell'interlocuzione a livello nazionale avevamo detto beh forse c'era quella spinta ma forse va giustato il tiro perché nell'impostazione prestava il fianco come dire ad un'interpretazione un po' troppo lasca tra virgolette che poi in un qualche modo l'ultima questione noi la combattiamo la burocrazia e sappiamo perfettamente quanto dipende dai burocrati che decidono nei vari ministeri perché tra il dire e la norma trascrutta cambia il mondo e lì bisogna intervenire ma noi siamo i primi a sostenere un passaggio di questa natura perché noi siamo pratici quattro cose le comprendiamo e le applichiamo ecco insomma in quella roba lì che sta dietro la burocrazia alla fine ci troviamo sempre in forte difficoltà ecco volevo dire questo grazie grazie a te allora adesso facciamo fare se non ci sono altri interventi dalla sala diciamo una piccola riflessione ai vari presidenti prego Claudio Cardinale grazie ho fiducioso tutti i politici comunque volevo fare una precisazione su quanto è stato detto poco fa quindi è emerso che le maggior truffe sono state fatte sui cappotti le associazioni stanno proponendo e cercando di fare in modo che venga data una figura a chi fa i cappotti se ieri qualcuno faceva il macellaio e poi domani gli mette a fare i cappotti forse qualcuno si dovrebbe chiedere qualcosa andiamo in banca a chiedere un finanziamento alle poste ci chiedono rating e mille altre cose chi è che ha finanziato queste persone così imprese che sono nate ieri voglio dire qualcuno si voleva chiedere qualche altra cosa quindi forse non è solo l'artigiano che non ha denunciato ma sono ben altre persone che non hanno denunciato grazie bene Filippo Luna così andiamo avanti con gli impiantisti poi torno ribadisco velocissimamente che quello che è stato già detto ovvero le imprese iscritte all'associazione sono imprese storiche che da sempre convivono e non truffano per cui condivido anche il fatto che noi ci fidiamo delle leggi dello Stato e lo Stato sta qui per prendersi cura delle imprese dei cittadini per cui la giustizia la fa lo Stato la sanità la fa lo Stato il mantenimento delle promesse delle leggi nei tempi previsti è quello che ci si aspetta da uno Stato se lo Stato vuole la fiducia delle imprese per cui questo è il tema questo noi ci aspettiamo dallo Stato e condivido le tempistiche ci sono siccome noi siamo imprese siamo abituati a ragionare in ottica di tempi certi per fare business quindi nel brevissimo periodo sblocco dei crediti al valore nominale a cui noi li abbiamo acquisiti nel medio tempo riorganizzare il mercato del credito di imposta perché noi non abbiamo bisogno vado forte io mi esprimo come anche compartigionato impianti nazionale ha espresso chiaramente l'idea che per Assuro il 110 a noi non serviva noi bastava il mercato dalla cessione del credito con degli incentivi spalmati per i prossimi dieci anni è la soluzione per un iter di efficientamento di transizione energetica di cui il paese ha bisogno e che ha promesso già l'Europa quindi di questo abbiamo bisogno e questo dobbiamo sistemare in questi esatti ordini in questo esatto tempo grazie Filippo Marco Rossi Costruzioni CNA io penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione profonda sulla struttura dei bonus fiscali perché così come è stato fino adesso gestito attraverso decreti d'urgenza abbiamo creato più danni che benefici quindi penso che il Parlamento debba riprendere la sua funzione ponderare con attenzione e con una profonda riflessione di come gestire per il prossimo futuro i bonus perché non è più possibile andare avanti in questo modo e mettere e creare questa fortissima incertezza questo per il lungo periodo per il breve occorre chiaramente sbloccare questa situazione ma la mia domanda è di fronte a un'inflazione galoppante come questa chi sarà quel soggetto che comprerà questi crediti a valore nominale cioè funziona questa strada secondo voi io mi pongo dei dubbi grazie grazie Rossi Enrico Marcini concludo brevemente sono stati tutti interventi molto utili e mi ha fatto sentire diciamo la vicinanza della politica mi si è solo un attimino alzata la pressione quando ha intervinto l'onorevole Paolini perché ha detto tante cose giuste però ha detto che noi non seguiamo o non denunciamo io faccio parte di Anna Epa Confartigianato a livello nazionale sono in giunta è dal 2011 che chiediamo l'accesso alla professione delle imprese edili nascono e muoiono imprese edili ogni giorno noi facciamo parte di un'associazione io sono solo vent'anni che ho la mia impresa dopo aver fatto quindici anni da dipendente non è possibile non è possibile perché siamo noi i primi a chiedere queste cose e mi infuoca questa cosa perché siamo l'unica categoria gli impiantisti devono fare tirocini devono fare esami lei onorevole ma chiunque in questa sala se domani va in camera di commercio apre una partita IVA e butta giù un pilastro fa frodi e fa quello che vuole allora perché non facciamo un accesso alla professione è dal 2011 avevamo presentato delle proposte di legge se volete ve le invio a tutti tramite Gilberto è una cosa assolutamente inconcepibile che mi fa veramente trassalire comunque torniamo l'argomento pratico bellissime le parole sblocco dei crediti abbiamo bisogno oggi fase di transizione per studiare meglio il bonus facciata è stata una cosa a maglie troppo larghe diciamo così ok non c'erano controlli ma sono state il grosso delle truffe i 4-5 milioni che dicevamo sono state lì il 110 ha controlli ricontrolli asseveratori c'è un sacco è difficile è difficile poi per carità le frodi ci sono dovunque in qualsiasi settore siamo bravi a fare le leggi ma sono più bravi altri a trovare le scamotage è vero però non possiamo penalizzare la gente che lavora onestamente piuttosto facciamo maggiori controlli lo sappiamo collaboriamo con i questori facciamo riunioni con i prefetti con tutti siamo noi primi a sapere che ci rimettiamo di questa situazione assolutamente perché poi ci confondono con tutti gli altri va bene ringrazio scusatemi per l'accorato intervento finale ma è una cosa che alla quale tengo particolarmente e volevo dire per ultimo che mi ricordava anche il mio collega Grazie Filippo anche adesso sulla fase della legittimità dell'onestà si sta creando un mercato parallelo dei crediti attenzioniamo questa cosa perché chi è di esperato chi è di esperato deve trovare una soluzione e spesso vede in una porta che si apre anche troppo facilmente una soluzione che soluzione non è e si creano ancora più danni ha detto bene quella parola che io non voglio usare e spero mai di non trovare nessun collega ma è per primo che debba rivolgersi a queste cose grazie mi pare mi pare che la conclusione è stata fatta in maniera molto bene dai presidenti quindi grazie a tutti i parlamentari il Parlamento vede che c'è veramente grande disponibilità a collaborare grande attenzione anche in termini di proposte e quindi siamo a disposizione auspicando che veramente nell'arco di qualche giorno torniamo alla normalità grazie di nuovo a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti